I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, a conclusione di un'attività d'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora di un anno nel territorio della provincia di Palermo, nonché della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per lo stesso periodo emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo, a carico dell'ex responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Assemblea regionale siciliana Giuseppe Mirici Cappa, indagato per il reato di tentata induzione in debita a dare o promettere utilità. L'attività investigativa si è sviluppata a seguito della denuncia presentata da un imprenditore che dopo essersi aggiudicato nel 2019 una gara d'appalto di servizi e ristorazione bar presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana avrebbe ricevuto delle forti e insistenti pressioni da parte del Mirici Cappa affinché si rivolgesse esclusivamente a fornitori indicati da quest'ultimo. A fronte del rifiuto da parte dell'imprenditore, il pubblico ufficiale avrebbe posto in essere nei suoi confronti reiterati comportamenti ostili e vessatori. Le indagini hanno fatto emergere inoltre la marcata propensione di Mirici Cappa a richiedere favori per sé e anche per terzi ad alcuni imprenditori affidatari di commesse da parte dell'ente e ciò in forza del ruolo rivestito e dei conseguenti stretti e quotidiani rapporti che il funzionario intratteneva con gli stessi.